Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Teleitalia. Silvio Berlusconi scrive una lettera al Corriere della Sera. Caro direttore, in questi mesi difficili, Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile di fronte alla duplice crisi sanitaria ed economica, legata alla pandemia da Covid-19. Una scelta dettata non da considerazioni di tattica politica ma dal senso del dovere verso le istituzioni e la collettività. Questo nostro atteggiamento, che ha evidenziato il loro ruolo essenziale di Forza Italia, è stato da molti apprezzato, da altri criticato, spesso dagli uni e dagli altri, sulla base di un equivoco. Si è pensato che vi fosse qualche disponibilità da parte nostra a sostenere un governo in difficoltà numeriche o addirittura ad entrare in maggioranza. Altri hanno pensato che Forza Italia volesse sfruttare la sua forza parlamentare, che potrebbe renderla determinante per portare a casa chissà quali risultati. Una sorta di riedizione della politica dei due formi di Giulia Andreotti, adattata al 2020. Nulla è più lontano dalle nostre intenzioni, dice il Cavaliere. Non soltanto perché naturalmente per noi sarebbe impossibile governare il Paese con forze politiche incompatibili con la nostra cultura. Il fatto è che è davvero sbagliato leggere i nostri comportamenti in chiave di tattica politica contingente. Per questo credo sia necessario spiegare o ricordare qual è la funzione vera di Forza Italia oggi. Noi siamo certamente determinanti nei numeri per stabilire se il centrodestra possa vincere a tutti i livelli, ma non siamo davvero una di quelle forze politiche che sfruttano la loro opposizione per lucrare spazio politico opposti di potere. Ma qui aggiungo io, caro Silvio, tutti sono indispensabili. Senza Fratelli d'Italia il centrodestra non governa. Senza la Lega il centrodestra non governa. Senza Forza Italia il centrodestra non governa. Non è che Forza Italia è lago della bilancia. Tutti sono lago della bilancia. Andiamo nella maggioranza. La maggioranza senza il PD non governa. La maggioranza senza i 5 Stelle non governa. La maggioranza senza Italia Viva non governa. L'EU è l'unico che c'è o non c'è, non cambia niente. Ecco, l'EU è l'unico. Ma avete visto che anche nella maggioranza sono tutti lago della bilancia. Quindi ognuno si sente lago della bilancia. Ma non è così. Non è assolutamente così. Poi Berlusconi aggiunge Forza Italia è necessaria per oggi per l'Italia e lo sarà sempre più in futuro. Ben al di là dei numeri. Numeri che oggi sono in ripresa ma che certo non ci soddisfano. Beh, Ipsos ha dato Forza Italia al 9,3%. Gli altri sondaggi la danno al 6%, come sempre. Boh, come al solito Ipsos è diverso dagli altri. Realmente i sondaggi di Ipsos sono corretti e tutti gli altri sbagliati o tutti gli altri sono sbagliati e solo quello di Ipsos è corretto. Certo, una Forza Italia più forte dà fastidio alla Lega. Dire che Forza Italia al 9,3% dà fastidio alla Lega. Dire che il PD guadagna consensi dà fastidio alla Lega. Dire che la Lega continua a scendere dà fastidio alla Lega. Dire che Fratelli d'Italia cresce dà fastidio alla Lega. Ma che c'è, mi viene questo leggerissimo dubbio. Sembra che tutte le cose che vengono fuori da Ipsos siano fatte per danneggiare la Lega. Forse è una mia impressione, però c'è qualcosa che non mi torna. Com'è possibile che Ipsos sia sempre diversa da tutte le altre case di sondaggi? Vabbè, ma andiamo avanti con il racconto berlusconiano. Va bene, i nostri obiettivi sono ben altri, dice. Vogliamo tornare al ruolo di guida della coalizione di centrodestra. Eccala! Ma stai scherzando? Berlusca, hai bevuto troppo per il brindisi di Natale. Vogliamo tornare al ruolo di guida della coalizione di centrodestra. Caro Berlusca, è legittima la tua volontà, il tuo desiderio è legittimo. Ogni capo politico sogna di diventare premier, capo della coalizione di centrodestra, centrosinistra. Però, insomma, con il 6%, tranne Ipsos che la dà al 9,3, con il 6%, Giorgio Ameloni direbbe, ma andovai, ma andovai, ma andovai, ma andovai. È un po' come Renzi col 3% e Berlusconi col 6% che sognano di diventare i due candidati premier, uno per il centrodestra, uno per il centrosinistra. Avete fatto la vostra storia. Tu Berlusconi sei stato pluri presidente del Consiglio, Renzi è stato presidente del Consiglio. Il vostro tempo lo avete fatto, vi siete giocati le carte. Adesso raccontare la storia di Babbo Natale? Beh, sì, siamo a Natale, quindi raccontano la storia di Babbo Natale. Possiamo e dobbiamo farlo, dice Berlusconi, perché Forza Italia è qualcosa di unico nel panorama politico italiano. È l'unica forza politica che nel dopoguerra ha fatto una sintesi delle idee, dei valori delle dottrine politiche liberali, cristiane, europeiste, garantiste, traducendoli in un progetto politico e di governo credibile. In Italia non era mai esistito prima della nostra nascita e non ci sarebbe oggi se noi non esistessimo. Nulla di simile alla CDU tedesca, a quello che hanno rappresentato gollisti e giscardiani in Francia, al partito conservatore di Margaret Thatcher nel Regno Unito, al partito popolar in Spagna, ai repubblicani negli Stati Uniti, almeno quelli dell'era di Reagan e di Bush. Naturalmente si tratta di esempi molto diversi tra loro, anche per collocazione internazionale, ma sono tutte forze politiche che hanno governato i loro paesi sulla base di una visione liberale ampia, nella quale confluiscono sensibilità diverse laiche e cristiane. Forza Italia nasce nel 1994, prima di tutto per realizzare un progetto come questo. Il fatto di avere evitato allora che una sinistra ancora post-comunista e radicalmente giustizialista andasse al potere fu una conseguenza logica di questo. Una circostanza storica specifica. Noi non siamo nati contro qualcuno o qualcosa, siamo nati e esistiamo oggi perché abbiamo un grande sogno che qualche volta abbiamo chiamato rivoluzione liberale, dice Berlusconi, che poi aggiunge abbiamo fatto molto in questi anni, gli storici del futuro ce ne daranno atto, forse più di quanto fanno i cronisti di oggi, ma la nostra storia è tutt'altro che conclusa, anzi direi è appena cominciata. L'Italia oggi ha bisogno di noi come non mai. Noi siamo, l'ho detto facendo gli auguri di Natale, i nostri parlamentari, i nostri dirigenti, una forza politica saldamente ancorata alla tradizione liberale e cristiana che crede nell'economia di mercato e negli istituti della democrazia liberale, che pone al centro la persona, le sue libertà, le sue aspirazioni, la sua voglia di intraprendere il suo desiderio di realizzazione, coniugandoli in un contesto organico di diritti e doveri, che sostiene e incentiva il merito quale leva di promozione individuale e collettiva, che guarda al bisogno con la volontà di rimuoverlo senza scadere nell'assistenzialismo, una forza convintamente europeista, interprete e prodotto del patrimonio ideale occidentale, con una cultura di governo pragmatica aperta al futuro, alla modernità, al progresso. Per queste ragioni Forza Italia è refrattaria ai bagliori del populismo, della demagogia, della retorica anti-europeista e si pone in alternativa rispetto a una sinistra ambigua in perenne crisi di identità, distante dalle esperienze di governo delle moderne socialdemocrazie europee. Esiste oggi in Italia e si profila per l'avvenire qualche altra forza politica significativa che possa e voglia svolgere questo ruolo, in grado di rivolgersi al tempo stesso ai liberali, ai cristiani, ai riformatori, ai conservatori, agli europeisti, dice Silvio Berlusconi, poi aggiunge anche garantisti con una visione comune di che Italia vorremmo per i prossimi decenni. Sinceramente non vedo nessun altro, dice Berlusconi. L'Italia ha bisogno di una forza politica di questo tipo? Le mie risposte certamente sì. Per questo io credo che noi siamo il futuro, anche se oggi i numeri non ci danno lo spazio che vorremmo. Sta a noi ricostruire questi numeri? Certamente. Lo faremo nel centrodestra, che è la nostra coalizione naturale. E vorrei dire di più, dice Berlusconi. Noi siamo il centrodestra. Se non ci fossimo noi in Italia non esisterebbe un centrodestra di governo. Esisterebbe una destra rispettabile, democratica, di successo, ma certamente minoritaria. Una destra non in grado di rappresentare l'Italia, alla quale noi ci rivolgiamo. Per questo, caro direttore, ho abusato della sua ospitalità. Forza Italia non è una pagina già scritta nel grande libro della storia. È una pagina del futuro che vogliamo scrivere con i tanti italiani che, forse senza saperlo, condividono i nostri valori e la nostra visione del futuro. Forse la frase finale è quella giusta. Molti senza saperlo, ecco. Ma forse molti non lo vogliono sapere. Nel senso che, Silvio, insomma, come fai a fare di nuovo il capo del centrodestra. Dovresti arrivare al 33%. Non è più tempo. Ci sono altri partiti adesso nel centrodestra. C'è la Lega, c'è Fratelli d'Italia. Ambizione legittima, ma lascia stare, lascia perdere. Grazie e buon proseguimento di giornata.